The door is open, the four seals have marked my coming No tranquilli, è rigor mortis, ogni tanto capi È tutto naturale, fidatevi Sta rappando comunque Ah già, il crowdfunding, è vero che stava cercando Il demone ha questa sua campagna, ecco, di sensibilizzazione Ragazzi, se volete la trovate, si chiama 666 E perché? La trovate sotto? Dove cazzo sono i tubi? Basta che non vediamo un luogo ricoperto di yogurt, ragazzi No, non è qui Ah!